Salve a tutti, sono Simone di lezioni di poker e in questo video introdurremo il concetto dell'immagine al tavolo di gioco, la sua costruzione ma specialmente come sfruttare l'immagine che noi abbiamo deciso di infondere. Di conseguenza gli argomenti di questa piccola lezione introduttiva saranno il come costruirsi un'immagine o meglio cosa utilizza la mente per costruirsi una previsione di personalità rispetto ad altre persone. L'applicazione dell'immagine che abbiamo deciso di infondere ai nostri avversari e poi un piccolo esempio di come prevedere una giocata di uno specifico contendente. Prima di questo ritengo opportuno esporre il concetto di teoria implicita di personalità. Questo è un concetto molto importante in psicologia, soprattutto in psicologia sociale. La teoria implicita di personalità è semplicemente, riassumendo, la costruzione dell'altro, ovvero un modo automatico e al di fuori della coscienza, quindi inconscio, con cui le persone cercano di codificare la personalità di un individuo. Quindi un individuo nuovo che non conosciamo, specialmente in un tavolo di poker, ci servirà appunto capirlo studiandolo per poi in un secondo tempo poter prevedere e codificare le sue mosse, il suo comportamento. Diciamo che al momento è importante non tanto come noi andremo a proivedere gli avversari, ma quello che noi vogliamo infondere ad essi. Se un avversario ci ha identificato come un giocatore abbastanza chiuso, che punta con punti relativamente forti, vedendoci rilanciare preflop, dedurrà che abbiamo una mano di partenza buona, che partiamo magari con una mano come asso K o comunque una coppia alta. In certe situazioni, specialmente appunto in un tavolo di poker, questo deve essere effettuato in breve. Quindi il nostro cervello, il nostro sistema di ragionamento utilizza delle scorciatorie sempre automatiche al fine appunto di prevedere le situazioni. ecco, cosa utilizza la mente dei nostri avversari per identificarci? Utilizza esperienze precedentemente acquisite al fine di completare le informazioni rispetto a noi, riportandoci alla somiglianza con avversari in precedenza incontrati. Tale impressione sarà stabile e ripetibile secondo il nostro avversario e questo sarà utile a noi da poter sfruttare dal momento che in certe situazioni vorremmo magari ritenere utile rubare come per esempio dei bui nelle zone bolla. ecco, ora andremo a vedere qualche mano di esempio dove applicheremo i concetti precedentemente esposti. In questo sit abbiamo già avuto modo di giocare qualche mano, ma soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di infondere ciò che noi volevamo, ovvero l'immagine di un giocatore chiuso che entrava con mani relativamente forti e dopo il flop con punti già chiusi e acquisiti. in questo caso partiamo effettivamente con una buona mano di partenza, una socappa a colore e ovviamente ci ritroviamo ad un raise dove a seguito troviamo due call. Interessante vedere che il flop non ci aiuta particolarmente, ma sicuramente non ha aiutato neanche i nostri due avversari che penso abbiano l'impatto al nostro raise, penso con qualche figura. Comunque spingiamo non tanto per le carte, ma spingiamo per l'immagine che noi abbiamo voluto costruirci, ovvero di entrare solo con punti acquisiti su flop. In questo caso non è così, però andando appunto a regolarizzare ciò che prima abbiamo imposto, riusciamo ad ottenere due fold per poi prenderci 960 di piatto. In questa mano decidiamo di foldare prima di tutto per un rilancio dal bottone che non convince per le carte che noi abbiamo, ma soprattutto per un cambio di marcia. Noi ci ritroviamo in questo caso chip leader con un discreto vantaggio rispetto ai nostri due avversari. Continuando a rilanciare per prendersi i bui rischiamo di perdere di credibilità, cosa che ci conviene al momento mantenere vista la situazione di bolla. Ricordo che questo è un sit da 6 con incremento turbo dei bui, già ora può cominciare ad essere interessante il poterli rubare, tra poco potrà essere determinante. Quindi foldiamo e folda anche il grande buio. Nella mano successiva non ci ritroviamo due grosse carte di partenza, però ci possono permettere di ritornare a sfruttare l'immagine nell'infondere un timore ai nostri due avversari. Tra l'altro abbiamo il grande buio che incomincia ad essere corto, notando un nostro raise probabilmente otterremo un fold per non incappare in un coin flip che probabilmente se lui non ha le mani giuste di partenza potrà nel suo immaginario perdere, anche se l'effettivo può non essere così. Difatti otteniamo poi i due fold che ci permettono di prendersi il buio. In questa mano ci limitiamo a completare il buio non tanto per andare a vedere il board ma per prendere diversamente da un rilancio la puntata del nostro avversario. Sempre sfruttando l'immagine di un giocatore che punta, che betta con punti già acquisiti, vedremo che a seguito di un check del nostro avversario e del nostro bet otterremo il suo fold per prendersi la sua puntata, quindi un modo diverso rispetto al rilancio preflop. In questo caso a so3 decidiamo ovviamente di foldarlo e troveremo invece un all-in del giocatore corto con un call e un classico coin flip dove tengono i 2,99. In questa mano successiva diventa interessante vedere uno sviluppo al flop. Allora, noi non abbiamo una mano particolarmente forte di partenza, ma ripeto diventa interessante al flop dove chiudiamo una top. Anche se il kicker non dovrebbe creare molta fiducia, ma ciò che diventa interessante è il nostro quattro quinti di colore alla donna. Ma soprattutto vedremo che lo sviluppo di questa mano ci trova a scontrarsi con un giocatore, in questo caso Muff Muff, che abbiamo già avuto modo di studiare. Questo giocatore è stato da noi codificato come un giocatore che tende molto a rilanciare bleffando, quindi senza aver chiuso punti, e a mantenere e a nascondere i punti acquisiti. Di conseguenza ci ritroviamo un suo raise sul nostro bet e noi andiamo in sicurezza ad effettuare un re-raise sia come mezzo bleff per i quattro quinti di colore acquisiti ma soprattutto per la sicurezza di un bleff del nostro avversario. Difatti ad un re-raise abbastanza sostenuto otteniamo il suo fold che ci ha permesso di incrementare in anticipo un piatto che può darsi, avremmo potuto vincere magari con la coppia del Q o chiudendo il colore, ma può darsi anche che potevamo non avere speranze in altri casi. Per approfondimenti su questo argomento vi rimando al sito di lezionidipoker.com dove verranno approfonditi i concetti del comportamento e dell'immagine al tavolo di gioco. Grazie. Grazie.